Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, due chilometri di coda ma a causa di un veicolo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma e tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In A11 a causa di un veicolo in avaria due chilometri di coda tra Prata Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In FIPILI invece a causa di lavori tre chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze e due chilometri di coda in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!